ciao a tutti sono lucia e siamo a torino abbiamo appena terminato la conferenza ad asti a livello internazionale abbiamo avuto come ospiti i leader più importanti del mondo che sono stati ospiti con noi e oggi li abbiamo portati in giro per visitare la nostra bellissima città di torino come vedete io ho già ricevuto il mio primo lingotto M Goldex il nostro lingotto d'oro M Goldex e lei fa parte anche del nostro pubblico perché M Goldex è anche per i bambini ci permette di essere liberi di viaggiare e di conoscere tantissime persone per me è una grande emozione perché li ho conosciuti tutti personalmente e che cosa vi devo dire ricordatevi che l'oro è denaro ciao Italia ciao 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 ciao